I produttori di lenti multifocali o progressive, cioè quelle lenti che permettono di vedere sia da lontano che da vicino, ma soprattutto nelle zone intermedie, sono da sempre alla ricerca della lente ottimale, cioè quella lente che aumenta i campi di visione da vicino, da lontano, ma soprattutto nelle zone intermedie e riduca e ottimizza l'effetto di ondeggiamento, quella sensazione che si ha specialmente nel primo presmi, quando indossa la lente progressiva, oppure nel cambio di lenti per presbite che già da tempo utilizzano lenti progressive ma che cambiano poteri più forti. Per ottenere questo risultato i ricercatori Essilor hanno creato VariLux Series, reinventando la progressiva. Sono stati adottati due nuovi sistemi di realizzazione del tutto rivoluzionari, Nanoptix e Synchronize. Nanoptix è un sistema di rielaborazione dei calcoli delle lenti, nato per ridurre al massimo l'effetto di ondeggiamento, cioè quella iniziale sensazione di movimento delle immagini che io definisco semplicisticamente effetto barca. La lente viene suddivisa in migliaia di microarie per perfezionare a ogni punto di messa a fuoco sull'intera superficie della lente. Questa tecnica permette di stabilizzare l'immagine globale del portatore e ottenere una riduzione dell'effetto di ondeggiamento quasi totale, il 90% in meno delle migliori lenti oggi sul mercato. Ancora più interessante è l'introduzione del nuovo sistema Synchronize, che ha scardinato completamente l'intero sistema di produzione delle lenti progressive. Gli studi inerenti al sistema visivo indicano da tempo che esistono differenze sostanziali tra i nostri occhi. Ciascuno di loro ha una sorta di specializzazione, l'occhio dominante per la visione distinta e per la coordinazione dei movimenti occhio-mano, l'occhio non dominante o controlaterale che regola la visione dinamica. Le prestazioni visive vengono condizionate in maniera importante anche dalla buona corrispondenza retinica che garantisce la qualità della visione binoculare. Già da oltre 10 anni il nostro centro ha modificato radicalmente l'applicazione delle lenti progressive. Ci siamo resi conto che quando esistevano dei disagi e delle difficoltà nell'uso delle lenti progressive eravamo di fronte a problemi della funzione binoculare. Ecco lì che nel lontano si avevano problemi con i miopi e da vicino con gli ipermetropi. Oggi con Synchronize Essilor ci facilita il compito in quanto la nuova lente tiene conto già delle differenze fisiologiche dei due occhi ottimizzando e ad ampliando nettamente i campi visivi. Quindi nella visione laterale la lente destra e sinistra saranno diverse nel loro design tenendo conto sia dei differenti poteri refrattivi che delle semidistanze interpupillari. Inoltre grazie all'ausilio del Vision Office, questo strumento di centratura che permette di valutare dei dati che fino a ieri non erano acquisibili. Per esempio il centro di rotazione oculare e quindi non solo il centro ottico. Il centro di rotazione oculare non è altro che il punto in cui si interziano tutti i raggi che passano dalla lente alla retina e quindi la precisione del montaggio e dell'applicazione sarà decisamente più importante. Inoltre la valutazione dell'angolo di avvolgimento, cioè quanto è curvo l'occhiale e dell'angolo pantoscopico, di quanto è inclinato. Questo permetterà di realizzare una lente personalizzata per ogni cliente e un montaggio altrettanto personalizzato. La trentennale esperienza del nostro centro ottico nell'applicazione delle lenti progressive unita alle qualità di questa fantastica lente permetterà di offrire delle prestazioni visive fino ad oggi impensabili.